Here comes the bill Coach Pommes per la P.U.A.L.D.U.S.T. Udine una settimana positiva, due vittorie nelle due trasferte affrontate dai bianconeri che tornano a Udine, quindi non solo con quattro punti ma anche con delle prestazioni convincenti Sì, sono state due partite non semplici, due partite difficili da affrontare un po' per la trasferta in sé, un po' per, soprattutto per gli avversari e siamo contenti di tornare al Carnera a giocare una partita difficile però che deve confermare il buon lavoro che stiamo facendo fino adesso e la qualità che stiamo esprimendo in campo Contro Cremona i bianconeri scenderanno in campo al Palacarnera alle ore 18, la quinta giornata della fase dell'orologio in attesa del recupero della quarta un'altra partita, come dicevamo, importante che segnerà ancora il cammino di questa squadra Sì, come dicevamo prima dobbiamo continuare a fare un buon lavoro incontriamo Cremona che è una squadra che è molto difficile da affrontare arrivi da cinque sconfitte consecutive e ha sempre messo in difficoltà gli avversari a profondità, perché giocano in dieci, tutti dei sottotitoli a mettere il loro rapporto in campo e che trova una gran qualità soprattutto nel reparto degli esterni con i due stranieri Cotton e Shahid che sono molto importanti e sono i principali giocatori per questa squadra In queste ultime partite abbiamo visto la grande qualità di questa squadra la profondità del roster che permette di avere protagonisti diversi in partite diverse che è un po' anche un punto a favore per voi dello staff che vi permette quindi di studiare le varie situazioni e qual è il miglior modo per coinvolgere tutti i giocatori presenti Noi lavoriamo così da inizio anno e siamo contenti delle prestazioni individuali ma sono sicuro che queste prestazioni arrivano grazie a una buona prestazione di squadra e per cui dobbiamo continuare in questa direzione far sì che il lavoro di squadra ci sia sempre poi le qualità individuali vengono fuori e per cui dobbiamo continuare in questa direzione